Niente, allora parliamo di questo Gran Premio del Bahrain, parliamo di questo Gran Premio del Bahrain partendo dalla fine, perché tante cose, troppe per essere la prima gara. Troppe, troppe, in realtà di troppe una mi sconvolge, mi sconvolge un po' perché mi piglia direttamente, perché come sai io non sono tifoso di auto, quanto più che altro di piloti, perché l'auto va bene, ha la nazionalità, va bene, può essere fenomenale finché vuoi, ma l'auto è un pezzo di metallo. Mentre la persona, la guida dell'auto, io quando vedo cose tipo, vado indietro, di secoli però, il Valentino Rossi che dalla Honda dice ragazzi io non è che faccio il culo a tutti perché ho la Honda, faccio il culo a tutti perché sono Valentino, passa la Yamaha e fa il culo a tutti dalla prima gara che era una moto che non andavo a palarla, ecco io lì mi emoziono. Quando vedo il pilota che ci dà, e quindi io sono più tifoso di piloti che di macchine, onestamente, però sicuramente è successo qualcosa, sono successe due cose che hanno stupito in maniera eclatante direi, perché P0, attenzione, le Pirelli. Ci seguono le Pirelli, incredibile. Un cordiale saluto alle Pirelli, che ci sentono sempre, sì, l'affidabilità della Red Bull, ma le note dolenti lui terrei per la fine, perché uno è quello e due ovviamente il finale di gara, detto tu, partiamo dal finale. Io parto sempre dalla fine, cioè, parto sempre dalla fine qualcosa di incredibile. Da quanto? Da quanto la doppietta? Singapore 2009, come ho detto nel podcast. 900 o quanti? 903 giorni dopo, Sebastian Vettel e Charles Leclerc Singapore 19 con l'ordine di scuderia che non venne rispettato da Vettel e Leclerc che voleva passare per vincere la terza di fila dopo Spa e Monza. Fu quella gara lì, ecco, la Ferrari non vince da quella gara lì del 2019, quando era una macchina che si poteva giocare il titolo del mondo con la Mercedes di Hamilton, ma c'era Fettel. Era una macchina che hanno assolutamente fucilato perché la Mercedes si è lamentata e noi sappiamo che se Toto Wolff dice qualcosa e legge, perché in Formula 1 Toto Wolff evidentemente ha una minchia come Rocco Sifreddi e quindi tutti devono ascoltarlo. Cioè, non ho capito il perché, se lui dice qualcosa tutti si inchinano. No, comunque, mettiamo un po' ordine. Il podio è nobile perché due Ferrari è uno dei più grandi di sempre, al netto delle simpatie e antipatie. Un podio inaspettato, sinceramente, perché Mercedes, diciamo subito, ci dobbiamo subito il dente, è il podio più meritato della storia della Formula 1, probabilmente quello che abbiamo visto in pareti. Forse indirettamente anche della storia della Mercedes, perché quando sono in Formula 1 dominano tutto a schifo, quindi nel pratico forse anche della storia proprio della scuderia in sé. Esatto. Perché è immeritato? Perché la Mercedes era e un indietro rispetto alla Red Bull, che meritava, secondo me, secondo e terzo posto, senza se e senza ma. E invece è complice la Red Bull, che se ne va con il quattro, insomma, Sainz se la giocava con Perez, anche secondo e quattro, se proprio vogliamo. Però Perez aveva fatto il giro veloce con le medie, mentre Verstappen con le medie arrancava, insomma, era una Red Bull competitiva, ecco, questo sì. Però, da qui a dire, Hamilton fa podio anche stavolta, insomma, la fortuna ci ha visto molto bene. Non vogliamo iniziare un euro al podio di Hamilton, soprattutto, ti dirò, riguardandomi la classifica finale, io ti avevo detto, è rimasto un po' deluso da Russell, in realtà, però, guardandoci bene, in realtà è arrivato dietro a Hamilton, ma di due secondi, quindi, nemmeno così tanto. No. Subito, visto Russell dietro, ho detto dopo che ha dominato le quali, le prove tutte, anche prima sessione di qualifiche, poi dopo è finito dietro, la prima sessione era stato davanti a Hamilton, fin lì mi aspettavo di più da Russell, ma poi in realtà vai a vedere, effettivamente, tutto sto fenomeno, Hamilton in effetti non ne sta, cioè due secondi significa sbagliare una curva, fondamentalmente, cioè, in poche parole, non c'è stata tutta questa differenza. Quindi, in generale, proprio una McLaren sottotono, al netto di due piloti che, penso, abbiano dato il massimo che più non potevano. Tanto ringraziamo il Ciga, che si è iscritto al mio canale, in frattempo, grazie al Ciga. Ma Ciga! Ma Ciga, grazie mille. Che giocatore il Ciga. Però, insomma, mi aspettavo la Ferrari competitiva, no? Parliamo del podio, no? Che era l'immagine di copertura della mia diretta che è saltata. Non mi aspettavo che fossero così tanto competitivi. Cioè, perché Matteo, il collega, insomma, che è in chat, insomma, lo sa, insomma, le Ferrari avevano fatto seconda e terza nelle libere, seconda e terza e sempre, qualificazione primo e terzo. Insomma, i tifosi della rossa, non dico speravano, però, in minimo, potevano magari, no? Non mi sarei aspettato magari primo e secondo, ma primo e terzo ci avrei anche potuto sperare, o secondo e terzo. Cioè, un podio con doppia rossa, onestamente, ci avrei anche sperato. Più che altro, quello che mi ha fatto pensare, che mi ha dato un po' di speranza nei confronti della rossa, al netto del fatto che, come ho detto, non tifo la rossa. Simpatizzo, macchie italiane, sono contento, ma non me ne fregiamo una fava della macchina. Simpatizzo le Clerc, piuttosto. Però, quello che mi ha fatto pensare è stato il fatto che, poi possiamo parlare del nuovo regolamento, di tutto quello che non mi va giù del nuovo regolamento, e di quello che mi piace, nonostante tutto, però, nel nuovo regolamento siamo tornati indietro, oggettivamente. Cioè, siamo tornati le macchine degli anni Ottanti. Beh, in questo, tranne i motori, che non è l'unica cosa che doveva tornare indietro, non è tornati indietro, però, dicendo questo, la rossa aveva un vantaggio non indifferente. Cioè, se noi pensiamo a Red Bull e Mercedes, sono macchine che l'effetto suolo non sanno neanche che cacchio è. Non l'hanno mai visto nella loro storia. La Ferrari, con quell'effetto suolo, ci ha giocato per vent'anni. Quindi, io, in realtà, davo un po' di vantaggio in più. Nel senso, primo, sono arrivati i terzi nel Mondiale Costruttore, quindi hanno avuto più tempo nella Galleria del Vento. E questo, lo dicevano anche Hamilton, Toto e Compagnia Bella, ovviamente, diciamo, rispetto a noi, hanno sicuramente più dati sull'aerodinamica, ci hanno potuto lavorare di più, avranno un vantaggio sicuramente nelle parti più guidate, più aerodinamiche del tracciato. Loro già sostenevano questo in origine. Però sappiamo che poi, anche loro, in tutti gli anni, pur avendo meno tempo in Galleria del Vento, hanno sempre supplito con la loro ingegneria incredibile a queste differenze. Però, secondo me, proprio il fatto che ha cambiato la classifica quest'anno delle potenze, diciamo, in gioco, è stata proprio questa cosa del tornare indietro, cioè dello sfruttare un concetto di auto vecchia, che uno l'ha già studiata per vent'anni e l'altro l'ha studiata per sentito dire per vent'anni. E questa è una differenza molto grande, secondo me, e direi che si è vista. E si è vista, in realtà, in un certo senso, pure, per quanto, come hai detto tu, siamo arrivati a After the Music male e male, con la McLaren, perché la McLaren ha corso con una macchina, dopo sai che vado sempre a leggere, puttanate su puttanate, quando sono nelle pause, ha corso con una macchina dove Ricciardo diceva, avevamo una mappatura che quella delle prove libere era più spinta. Cioè, avevano una mappatura che era da mettersi a piangere, perché a stare dietro agli altri, non arrivava aria alla macchina, pertanto la macchina non si raffreddava, quindi loro dovevano prendere traiettorie sbagliate, stare lontani il più possibile, tranne quando hai deciso di sorpassare. Cioè, nelle prove libere potevano usare di più, perché non c'era nessuno in pista. Quindi loro hanno corso con una macchina più depotenziata, ma comunque hanno... sono arrivati davanti a varie scuderie, mettiamola così. Per quanto siano arrivati indietro, comunque sono arrivati davanti ai soliti ultimi della classifica. Sì, è virgola, nel senso che sono arrivati quattrodicesimo e quundicesimo, ringraziando i tre che sono arrivati davanti. Sennò uno era ultimo e quell'altro era diciassettesimo, giù di lì. Però in linea di base, anche lì, un pochino, anche nelle prove libere, un po' l'esperienza nel limitare il proposing si era vista anche da loro. Cioè, secondo me è una cosa che paga molto le vecchie scuderie, il fatto di essere tornati indietro, nebbene o ne male. Parlavi di cose positive. Io come cosa positiva ci metto, come dire, il risorgere di scuderie è che l'anno scorso erano after the music, perché parliamo di cose belle, abbiamo fatto nel podio Ferrari, ma parliamo degli altri che giovano dei ritiri altrui, tutto quello che vuoi. Ma se tu guardi dopo i big four, perché quelli a traguardo sono i big four, i primi quattro, hai delle scuderie leggendari. I Metallica, Megadeth, Smear e Anthrax sono arrivati altri guardi. Esatto, e dietro hai tipo i Terramaze, i The Contortionist, e la gente lì. Peraltro band progressive metal molto fighe, ascoltate, sono validi. Però, cioè, tu vedi la classifica, cioè, vedi delle squadre che erano affanculo gli anni precedenti, la Haas, vedi un Alfa Romeo che risorge dalle ceneri, le piazza due a punti, di cui uno meritato, l'altro un po' meno. Mi dirò, dell'Haas, anche lì, l'improvement me lo aspettavo per forza, perché in questo caso hanno sacrificato due anni interi di carriera per sviluppare la macchia nuova, cazzo, se con due anni di lavoro in più degli altri non ce la fate, forse vi dovete proprio ritirare dal Mondiale. Per cui, nel pratico, a letto di tutto, è anche giusto così. Scusa un secondo, saluto Sblobby, che ha detto che va, quindi grazie a Sblobby di essere passato e buona serata. E il collega diceva, io non ci volevo, credo, non volevo speranze, troppi dolori, troppe delusioni, concordo con te, però dopo che l'anno scorso, ultima gara, che è andata come è andata, con Michael Masi, lascia stare Michael Masi, il discorso, però, io non ti favo Hamilton, io... Signor Masi, ma signor Masi! A fine gara, ultimo giro, non c'era nessuna speranza, sono sempre andati più piano di Hamilton, c'era proprio un cazzo di speranza, detto, vabbè, la gara è finita, finisce in safety card, è fine. Si doppiano, sorpassano, da lì ho imparato ad avere speranza. Perché da lì, cioè, il mondiale si è deciso all'ultimo giro, si è deciso come speravo io, quindi... Da lì ho imparato ad avere speranza. Esatto. Cioè, siamo noi... È bellissimo perché noi viviamo in uno stallo incredibile, no? Perché io e Fable siamo arrivati all'ultima gara del mondiale con una scuderia in crescita, la McLaren, e una che ha vinto il mondiale, la Red Bull. Gara prima del 2022, tutte e due la Red Bull fuori, per problemi spiegabili. La McLaren sembra la Haas dell'anno scorso, la Williams degli anni prima, cioè... La tristezza incredibile, vabbè. Commento che non c'entra niente, poi io cominciavo a parlare del Bahrain, ma commento che non c'entra niente, che mi ha fatto molto ridere. Ai tempi della presentazione delle macchine, il mese scorso, mi ha fatto morire che hanno presentato la... la WF44, no? La nuova Williams. WF44, scusa. E mi ha fatto ridere perché l'ha presentato, bellissima, nuova, livrea, figa, tutto così. E la gente... Il primo commento sotto alla nuova macchina, il primissimo commento era così anche quest'anno si può arrivare ultimi con stile. Questo è stato il commento. Io sono crepato da ridere. Ma il problema è che... C'ha preso. Più o meno ci hanno preso. Fa schifo anche quest'anno, nonostante il cambio delle regole, il cambio di tutto. E lei è una di quelle scuderie che, stando al discorso del prima, c'è da sempre, avrebbe dovuto giovare di questo regolamento, non ha giovato un cazzo. Cioè, sono rimasti indietro dove erano, fa un schifo come prima. C'hanno anche due piloti terribili, però sono dove sono. Cioè, non è cambiato niente. Bella per Nicolas Latifi da Montreal, che prende paga anche da Alexander Albon, che non scusca correva nel DTM con Ferrari, tra l'altro. Allora, a me fa morire che Albon... Che spetta. Nelle prove libere la nostra macchina faceva schifo, abbiamo modificato il pacchetto, ci abbiamo andato, eccetera. Alla fine questa gara non è neanche andata così male. Ma Albon cos'è che è arrivato sedicesimo? Tredicesimo, non mi ricordo. No, no, davanti alle McLaren ti direi. Tredicesimo, mi sa Albon. Quindi Albon l'ha fatto anche bene. Sì, sì. E mi fa morire perché se tu vai a guardare le... Come si chiamano? Le interviste dei due piloti, uno è arrivato tredicesimo, l'altro è arrivato praticamente ultimo. E quindi uno dice, sì, la nostra macchina è migliorata decisamente tanto, mentre l'altro senza mezzi termini, che forse dovrebbe farsi due domande, visto che è lì perché paga e non perché è capace di guidare, e l'altro senza mezzi termini fa la nostra macchina è una merda, è peggio di quella dell'anno scorso. Ma l'anno scorso non avete fatto altro che ultimo e penultimo, tranne in un'occasione Russell. Sì, vabbè, la gara farsa di spalla, lascia perdere, dai. Se alla prima gara il tuo collega è arrivato tredicesimo, forse il problema sei tu e non la macchina, caro Latifi. Collega che non correva da un anno in Formula 1. Tra l'altro. Correva nel DTM, ok? C'era un altro che non correva in Formula 1 da un po' e ha fatto un risultatone, non vogliamo parlarne. Di chi? Di Gavino Magnussoni? Proprio lui. Gavino Magnussoni. Si può dire? Non ti bannano, se dico la solita espressione? No, no, no. In che non lo facciamo, non mi bannano. Tutti nudi per Gavino Magnussoni al secolo Magnus & Kevin dalla Danimarca. Che giocatore! Un altro che non correva da un anno, è bella per Mick Schumacher che prende paga da uno che non correva da un anno, buttato fuori a calci nel culo dalla stessa Haas, perché lui e i Grosjean erano un meme ambulante, pronti e via torna quinto. Va bene, cioè, ok. Ora capisco tuttavia, tra l'altro io ti ricordo, non ricordavo che lui fosse nell'Haas. Quando ho realizzato che lui e i Grosjean erano insieme all'Haas, ho capito perché l'Haas ha dovuto fare due anni senza sviluppare auto per sviluppare un uomo. Hanno buttato via tutti i soldi per riparare quelle di quei due stronzi. Cioè, gli hanno distrutto 46 macchine. Cioè, non è possibile. No, no, beh. Kevin Magnussen seriamente sorpresona e la cosa incredibile non è un blef. Perché, no, l'abbiamo parlato anche tra di noi, no, in chat così. Se questo ha fatto primo al day 2 nelle libere, nel day 3 ha fatto primi 10. Cioè, è uno che comunque un minimo si è adattato alle macchine nuove, per quanto l'han chiamato all'ultimo per le vicende di cui tutti sappiamo, va bene. Però, ragazzi, cioè, non è un improvvisato questo, eppure è un veterano. Credo che abbia due anni più di noi, in ogni caso, se non sbaglio, in classe 92, Magnus, che comunque... Non avevo una quale idea. Sì, sì. Non è giovanissimo, non è neanche vecchissimo, però non è uno che ti aspetti da titolo del mondo. Ecco, cioè, a differenza, secondo me, e qui parliamo di un argomento forte, di Ferrari e Red Bull, no? Perché, al netto che la Mercedes ha fatto podio e meritato, no? Ferrari e Red Bull sembrano una spanna sopra. E parliamo un po' della pista del Bahrain, no? Perché sono superiori? E Magnussen non sembra una spanna sotto. Cioè, l'As non sembra una spanna sotto rispetto alla Mercedes. Cioè, non è arrivato con un distacco così esagerato, se fai due conti. Ma, sì, Magnussen, perché Schumacherino, cioè, no, ma la macchina in sé a Magnussen la possibilità gliela data. Cioè, è arrivato dietro alle due Mercedes con tipo 5 secondi da Russell. Oh, no. Porca miseria. Cioè, che spinta, ragazzo mio. Però ti dico, se tu hai visto gli highlights della gara del Bahrain, avranno sicuramente una cosa fondamentale nel concetto che dicevo prima. Cioè, le Ferrari hanno un'accelerazione incredibile. L'abbiamo visto nella ripartenza della Safety Car. Esatto, voleva arrivare proprio lì. Mostruosa. Di contro, la Red Bull ha una velocità di punta pazzesca. Vedi il primo stint di Verstappen, il secondo stint di Verstappen con le gomme gialle, che stava per riprendere l'eclare con un undercut di Cristo e poi, vabbè, ha spiattellato la gomma al terzo tentativo e quindi lì la gara praticamente si è decisa. Però che giri ci hanno regalato? Che due o tre giri ci hanno regalato? Sì. Fenomenali. Allora, qui apro parentesi, complimenti. In questo caso alla FIA quando parliamo di ciò che mi piace del non regolamento, perché molte cose non mi piacciono, ma ciò che mi piace del non regolamento ha funzionato. Cioè, il sistema togliamo turbolenze per far sorpassare, ogni curva era un calcio di sorpasso per 3-4 g è stata una cosa fenomenale. Direi che al netto di due auto che hanno potenzialità simili il meccanismo funziona perfettamente. Quindi, fin qua, benissimo. Poi, io prima di esprimermi su questo discorso dei due motori aspetterei se non altro almeno Jedda, altro circuito abbastanza veloce ma con due o tre tornanti con due condizioni insomma che possono favorire sia quello con la velocità di punta elevata sia quello con lo spunto. Ci sono molte chicane quindi quello con lo spunto lì va con un treno in uscita, c'è il tornante dove in uscita vai ma dopo il tornante c'è un rettilineo che è talmente lungo che chi ha la velocità di punta prevale. Quindi, mi aspetto ad esprimermi a vedere anche quello perché potrebbe anche essere una questione di mappature nel senso che io posso avere i rapporti più corti dei tuoi hanno esattamente la stessa potenza uno settato per la cerazione e uno settato per la punta ottengo i due effetti precisamente diversi. Comunque entrambi i motori prestazionalmente parlando poi dell'affidabilità ci arriviamo prestazionalmente parlando come dicevi tu nettamente una spanna superiore agli altri ma anche due spanni cioè è stata una cosa incredibile. Basta prendere diciamo le scuderie satellite che sono sempre i parametri di riferimento tu prendi i motorizzati Ferrari motorizzati Ferrari abbiamo primo, secondo, quinto, undicesimo, sesto e decimo cioè il peggiore è Mick Schumacher undicesimo dei motorizzati Ferrari no? Parliamo di Ferrari Haas che tra l'altro mi aspettavo molto di più da lui ma sì oggettivamente per essere il peggiore di un motorizzato Ferrari ma undicesimo se è al limite dei punti tu prendi i motorizzati Mercedes terzo, quarto dodicesimo poi diciassettesimo quattordicesimo e quindicesimo sedicesimo e tredicesimo cioè il motore Mercedes ha un problema di surriscaldamento che è imbarazzante e ha preso fuoco due volte in un weekend e mezzo praticamente è impressionante sì vogliamo parlare delle posizioni dei motorizzati Honda? ah after the music uno in fiamme un altro quello? è andato il terzo con problemi al differenziale uno a punti ce l'ha messo perché giustamente tutti fuori Zunoda bravo a punti però ok Zunoda che è a punti perché sono usciti gli altri tre perché se no era fuori punti anche lui quindi non è che è andata molto bene direi che è chiaro quale dei motori in questa gara abbia prevalso quale delle tre motorizzazioni abbia prevalso e poi c'è il Renault che sta lì a fare il terzo incomodo no non Renault la macchina rosa perché è tornato il meme della macchina rosa porca Eva no no ma io mi riferivo alla motorizzazione sono due macchine la macchina rosa e la macchina rosa di tutto rispetto dalla macchina rosa mi aspettavo un po' di più da Fernando Alonso più che altro perché mi aspettavo almeno le posizioni invertite con Ocon perché Ocon dia la paga da Alonso e insomma quello mi ha lasciato molto represso anche perché Ocon ha fatto schifo nelle qualifiche mentre Alonso è riuscito a infilarsi nel Q3 nonostante delle difficoltà non piccole con la macchina che va più o meno come l'Aston Martin cioè come prestazioni siamo a livello Aston Martin esatto Aston Martin che ricordiamo per dovere di cronaca ha schierato il terzo pilota Nico Hülkenberg anziché Sebastian Vettel che è stato trovato positivo al covid potremmo vedere Hülkenberg a Jedda probabile cioè se le leggi dell'Emirato del Bahrain sono rigide come altri stati europei le leggi sono rigide poi dipende anche dal tampone dipende da tra l'altro il collega fa notare Magnus è arrivato a 5 secondi ma c'è stata a septicare fino a 7 giri dalla fine i distacchi lasciano il tempo che trovano verissimo il collega ha pienamente ragione perché parliamoci chiaro senza Gasly che va a fuoco Leclerc bullizzava male la gente parliamoci chiaro avrebbe vinto con eoni di vantaggio sulla concorrenza e i distacchi sarebbero stati più diciamo Camilo Secchi se l'ho pronunciato bene benvenuto grazie mille vieni a scatenare l'inferno con noi anche tu grazie mille ok scusa mi stavi dicendo no no dicevo senza la safety car i distacchi sarebbero stati molto più elevati no perché Leclerc avrebbe vinto con eoni di vantaggio cristallizzato Verstappen in seconda posizione infatti prima avevi detto Verstappen avrebbe vinto con eoni di vantaggio e sto dicendo ma oddio si deve tirare fuori un po' più che il coniglio dal cappello proprio il cappello dal coniglio no no Leclerc Leclerc anzi il predestinato è la madonna di tua eh no è l'espressione tipica del comandatore di Sky che il predestinato vince possiamo dirlo sta cosa non è predestinato Leclerc è un ottimo pio ma predestinato no predestinato è tipo il grandissimo Schumacher Senna eccetera quelli predestinati però è sulla buona strada mettiamola così mettiamola così se non è il predestinato ci sono un po' di papabili predestinati è un po' come è un po' come in Dragon Ball prima era Goku poi dopo un po' spuntano Gohan Vegeta gli altri e dopo è tutto un po' una battaglia intestina e poi c'è anche Ianko infatti anche qua Ianko ce l'abbiamo cioè la mia McLaren assolutamente la McLaren la McLaren si becca il premio Ianko io di solito do i premi nei miei podcast driver del giorno dell'usore del giorno inventiamo il premio Ianko perché sono arancioni fanno cagare Ianko il premio Ianko per la McLaren cioè ragazzi se io capisco i problemi parlo da tifoso e qua non da analista cioè vabbè noi due lasciamo il tempo che troviamo di mestiere facciamo altro per l'amore di Dio studio medicina non studio ingegneria non so il cazzo delle macchine però non ti puoi presentare alla prima gara della stagione con un problema ai sistemi del raffreddamento e dopo ci credo che vai al 10% del potenziale ok e va bene perché puoi presentarti alla prima gara del mondiale con tre motori su quattro che esplodono senza offesa cioè non è che sia andata molto diversamente qualcuna no ma infatti cioè la Red Bull sembra tornata a quella che si giocava in mondiale con la Ferrari con Alonso e Vettel cioè la Red Bull dell'epoca era una macchina incredibile aerodinamica della Madonna ma si rompeva una gara ogni due praticamente ed è per quello che Alonso vinceva ogni tanto le gare e si giocava il mondiale secondo me se cominciassero a progettare anche il motore tra l'aerodinamica ad Adrian Newey creerebbero Godzilla praticamente sì sarebbe esatto sarebbe sarebbe ora di licenziare l'ingegnere fa tutto a New Week a quanto pare è un fenomeno sì 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 no però sono onesto una Formula 1 che si pronuncia interessante già dal primo Gran Premio mi aspetto di vedere più contendenti in realtà in lotta perché alla fine è sempre due grandi scuderie tra di loro no? che per carità va benissimo per l'amor di Dio però se si inserissero una terza una quarta scuderia qualche outsider qui e lì che può fare podio per rovinare la festa sarebbe interessante ancora di più quello ci sarà di sicuro anche perché ci sarà la solita gara bagnata che è un po' storia delle cose ci sarà sicuramente qualcosa esatto sicuramente onestamente non mi aspetto così da inizio di stazione aspetta che vediamo le prime 5 o 6 gare come al solito ma vedendo ovviamente quelli che sono gli oggettivi tempi per progettare e sviluppare qualcosa di nuovo perché comunque un minimo ci deve essere e anche vedendo come in generale hanno lavorato gli anni passati che la Mercedes non è sempre partita col botto varie volte primis l'anno scorso è partita un po' indietro poi ha recuperato durante l'anno mi aspetto che per qualche gara almeno le nostre due scuderie cioè Red Bull e Ferrari abbiano una supremazia abbastanza netta però mi aspetto anche che con il che con il tempo la Mercedes si faccia vedere non penso che arriverà ad una supremazia partendo così tanto indietro però sicuramente secondo me si inseriscono anche loro due cioè i piloti sono due fenomeni la macchina deve essere un po' raddrizzata essere molto raddrizzata però se già la raddrizzi un po' questi cominciano a insediarsi qua e là quindi loro ce li vedo Magnussen sono curioso di sapere se la Haas è stato un fenomeno temporaneo o no perché se queste sono le potenzialità come dicevi tu l'ipotetica gara dove gli altri non vanno al massimo potrebbe essere il suo momento per rubare qualche punto assolutamente idem un Alonso che ce lo vedo tranquillamente a risollevarsi e farmi un sesto posto invece che un decimo cioè calcoliamo un'altra cosa cioè anche l'anno scorso qualcuno ha fatto saltare il banco no? chiedere a Ocona in Ungheria per dire no? ma lo stesso Alonso che ha fatto podio in Qatar se non sbaglio la quarta ultima gara del mondiale scorso ma l'ultima ma l'ultima gara lo stesso Ocona ha perso il podio per un metro sì il podio perso più immeritato della storia perché lì era tutto podio suo ha cargiato bene tutta la gara arriva questo stronzo col motore con una mappatura indecente e in 30 metri l'ha superato cioè è stata una cosa scandalo è arrivato sono usciti dalla curva insieme è arrivato in fondo che aveva il doppio della velocità cioè avevano un motore alla fine dell'anno che era scandaloso fondamentalmente e anche lì era un altro podio dell'Alpine fondamentalmente era un altro podio Alpine quindi ne abbiamo vari che anche se non giocano per il mondiale possono mettere Zizzania e con questo mondiale qua da come è cominciato secondo me tanta tanta roba tanta roba ci sarà dello spettacolo per integrare il tuo concetto io non do mai per morto Toto Wolf non do mai per morta la Mercedes perché ci sono alcuni contesti dove storicamente la Mercedes fa benissimo e attenzione alle gare bagnate perché Hamilton è un fenomeno sulle gare bagnate l'abbiamo visto nel corso degli anni e magari con la macchina inferiore ci può mettere quel qui di in più per provare evidentemente a dare una svolta alla stagione che per carità cioè partito male podio ma ripeto è il podio più meritato della storia della Mercedes da quando è entrata in Formula 1 ed era ibrida indubbiamente un po' di decente perché ripeto la Red Bull non può presentarsi alla prima gara con i due piloti di punta fuori uno al penultimo e l'altro all'ultimo giro per carità puoi anche dire i tre piloti di punta perché poi se guardiamo la classifica finale dell'anno scorso Gasly è stato un fenomeno con l'Alfa Tauri l'anno scorso Gasly se non è stato il pilota dell'anno quasi con tutti i punti che ha fatto con la macchina di merda che aveva soprattutto se lo vai paragonare a Zunoda che all'inizio dell'anno sto gran fenomeno incredibile è quello che ha vinto prima gara di F2 la prima gara è andato forte quindi era chissà chi ma poi ne ha fatto un cazzo tutto il tempo Zunoda per la cronaca arrivò terzo in quel campionato di Formula 2 non lo vinse no no dicevo aveva vinto più gare di Schumacher fondamentalmente ma Nick Schumacher è un più alzato che è più vincente ma ripeto poi Formula 2 e Formula 1 sono un'altra roba cioè c'è tra niente due mondi separati no 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 calcoliamo che per chi non seguisse Formula 2 e Formula 3 che hanno corso anche loro in Bahrain in contemporanea Formula 1 Formula 2 e Formula 3 sono dei monomarca dei monogomma sia per quanto riguarda motore e telaio e per quanto riguarda le gomme quindi c'è onestamente quasi li preferisco nel senso che almeno lì si vede il pilota non c'è uno che vince 37 mondiali perché è la macchina più potente vince il pilota più bravo appunto no 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 anche perché poi ci sono dei macelli tipo visto in Formula 2 se non sbaglio in 5 alla prima curva 3 davanti 2 dietro poi testa coda di uno che si è preso con un altro a tombe è diventato il gruppo del Giro d'Italia praticamente si esatto cadono tutti esatto erano posizioni che non contano quindi nel senso va bene però anche lì c'è più spettacolo però per dire e qui arriviamo a una nota dolente del regolamento apro questa parentesi in Formula 2 e in Formula 3 ci sono le gare sprint no le gare sprint però in Formula 2 e in Formula 3 hanno un cazzo di senso perché al sabato fanno una gara corta e alla domenica fanno una gara lunga Formula 2 peraltro hanno il pit stop obbligatorio nella gara lunga però in gara corta danno meno punti rispetto alla gara lunga ma corrono meno eventi ne corrono tipo 1-14 e l'altro 9 ha senso quindi ha un senso quindi federazione internazionale parliamo delle note negative che cazzo di senso ha rimettere 3 gare sprint su 22 in questa stagione o me la metti allora adesso o me la metti in tutte perché sì perché ci vogliamo fare il nuovo format allora va bene sti cazzi ma farne 3 non ha un senso ma a te non ha un senso neanche farlo in tutte perché a quel punto corri 40 gare e a quel punto venirmi a dire è il nuovo pilota che ha vinto di più di Schumacher e di Hamilton un ipotetico Leclerc tra 10 anni ha vinto più di Schumacher ma quando fai 46 gare all'anno ci vuole niente cioè voglio dire a quel punto non ha proprio più un senso neanche andare già non ha senso adesso fare i paragoni ma stai stravolgendo uno sport tanto più che secondo me il concetto della formula 1 di avere queste gare uniche e anche il fatto che in formula 2 la formula 2 sta lì più che altro per dimostrare chi è il pilota che vale quindi cosa succede che ovviamente dal risultato di gara sprint si altera la partenza di gara feature questo tra l'altro va a influire ovviamente sui piloti perché se io ho vinto la prima parto dietro nella seconda devo dimostrare ancora di più in realtà non è proprio così anche metto a regolamento quest'anno quest'anno la formula ha cambiato lo so però il ragionamento era quello così devi dimostrare ancora di più così per la formula 1 i team sanno chi vale e allora lì ha un senso in formula 1 c'è tutta gente che ha già dimostrato di avere due maroni così quindi quello che devo cioè ha più senso la gara estenuante che tu hai in mano una macchina per 70 giri ok tu ci arrivi che sei morto alla fine soprattutto se la macchina non è perfetta altro che dimostrare che sei bravo per arrivarci in fondo lì devi essere veramente il non più sulta cioè secondo me il senso è anche quello la formula 1 è un misto tra la formula 2 e una mini endurance cioè devi avere il massimo di prestazioni ma non per una gara sprint per 70 giri devi avere il massimo di prestazioni devi dimostrare ancora di più è lo scalino successivo è il gradino successivo è il massimo premio se l'andiamo a riportare indietro non stiamo tenendo niente cioè non ha senso secondo me non ha senso peraltro comunque scusami il collega che ha scritto già da ormai 20 minuti abbiamo spazio anche al collega che tra l'altro ricordiamolo sarà con noi a Imola a vedere il gran premio di Imola che ci andremo tutti a vederlo dal vivo possiamo dire saremo a Imola tutti insieme non potrò fare la live su Twitch perché purtroppo è formula 1 è copyrightata cioè nel senso i diritti si pagano se faccio la live l'anno scorso la cosa che mi stupisce è che ci sono tutte le regole sul copyright le cazzate poi sappiamo che le applicano quando ne hanno voglia loro quindi quando non girano soldi cioè tipo uso una canzone di Eminem di 20 anni fa che non se la caga più nessuno non succede praticamente niente ma al massimo mi becca uno strike vabbè l'anno scorso stavo guardando uno che streamava la gara di Jedda e lo stavo guardando su Twitch perché la volevo guardare in diretta in quel tempo c'era uno che streamava su Twitch dopo 20 minuti gli hanno bannato il canale permabannato neanche gli strike permabannato all'istante quindi quando ci girano i money ecco Twitch reagisce in modo diverso per cui non potremo farla live ma sicuramente potremo poi un podcast qualcosa da me ci sarà probabilmente il journey un video live della situazione la mia idea è di fare un vlog adesso come ho fatto anche per altri diciamo GP che ho visto l'anno scorso ho fatto il vlog da Misano per la Superbike ho fatto il vlog del DTM insomma da me è sicuro quello lì monterò qualcosa il giorno dopo tanto è anche ponte quindi vabbè però diamo spazio al collega che aveva un concetto da esprimere nel ogni caso al collega che faceva due commenti uno Mick lo zio che è il padre io dico che non è neanche lo zio no perché cioè allora sull'anno scorso non posso dire quasi niente nel senso che aveva una macchina che era talmente un disastro che non posso chiedergli niente anzi secondo me è stato si è anche comportato bene qualche volta ha sfiorato i punti può andare lontano tredicesimo se non mi sbaglio ho fatto un tredicesimo però bravino con l'AS che aveva nulla da dire è chiaro che ci sono circuiti che ti piacciono di più circuiti che ti piacciono di meno magari la prossima gara a Jedda arriva sesto non lo so magari la prossima gara è un altro genere di gara però in linea di massima ricordiamoci come mi faceva notare appunto Matthew il messaggio qualche giorno fa lui è quello che ha distrutto più macchine dell'anno al netto che era in squadra con Mazepin che ha sbinnato 23 volte su 22 gare quindi se tu hai distrutto più macchine di uno che ha sbandato 23 volte su 22 gare abbiamo un problema qui già partiamo con un problema e poi questa gara io non voglio metterlo all'agonia subito come ho detto Bahrain è un circuito molto particolare perché è veloce perché ha dei sali scendi c'è quella curva stramai detta prima del secondo rettilino che è in piena discesa in frenata in curva estremamente tecnica come curva che viene praticamente a metà di un'accelerazione piena perché c'è un brevissimo rettilino prima e un mega rettilino dopo quindi è una parte tecnica che è tracciato dove lì tanti piloti inesperti tanto spesso ci lasciano a volte ti hanno proprio dritto ci lasciano proprio quindi non voglio sentenziare contro di lui subito però Magnussen che appunto è noto con Grosjean per aver distrutto le casse della Haas è riuscito a fare il quinto cioè ci hanno fatto le canzoni su Magnussen e Grosjean cioè non so se siete al corrente che ci sono dei video su internet avete presente Beat It di Michael Jackson che no scusate Smooth Criminal di Michael Jackson che dice You've been hit You've been struck by a Smooth Criminal l'hanno modificata con You've been hit by You've been struck by Romain Grosjean e ci ha messo i video di Romain Grosjean che fucilava ogni singola auto del mondiale per far capire qual era il livello di Grosjean e Magnus ora se uno così ha fatto così tanto meglio di Mick Schumacher Mick Schumacher mi fa preoccupare ricordiamo che lo zio per quanto abbia mai corso per il mondiale ha fatto se non sbaglio un terzo o addirittura un secondo Ralph Schumacher non era un fermo era un pilota era un pilota degnissimo era un degnissimo pilota se non c'era il fratello forse una volta vinceva anche il mondiale ricordiamo che Ralph Schumacher correva con Schumacher Prime correva con Raikkonen Prime Montoya Prime cioè Achinen Prime no Achinen no o si anche vabbè se beccato una serie di fenomeni Ralph Schumacher che cazzo deve c'è in senso poverino correva con una Ferrari perché gli ultimi tre anni di come si dice di dominanza di Schumacher la Ferrari comunque era oggettivamente anche mostruosa come macchina ah si è beccato anche Alonso Ralph Schumacher giusto Alonso Prime questo poveraccio ha sfilati tutti i campioni è stato un po' l'eterno secondo è stato un po' il Max Piaggi della situazione ma non puoi dire che non fosse un campione Mick ha ancora molto da dimostrare anche prima di arrivare a parlare di Ralph secondo me perché fin qua ha dimostrato di essere il mignolo di Ralph Schumacher però come ho detto non lo metto all'agogna primo anno in Formula 1 davvero quello dello scorso anno non lo considero un anno in Formula 1 era ancora in Formula 2 con la macchina quindi primo anno in Formula 1 non fuciliamolo all'istante vediamo altro commento che faceva il collega era invece quest'anno Leclerc è abbastanza fondamentale con una macchina che va deve dimostrare di essere in grado di battersi per il mondiale non per forza vincerlo ma dar battaglia fino alla fine e io sono convinto senza dubbio che lo farà perché con la macchina che aveva l'anno scorso che era nettamente inferiore ha sfiorato il podio prima volta ha fatto il podio e comunque soprattutto verso fine anno lui era un pochino calato anche perché aveva fatto più che altro degli errori non è che fosse calato come pilota che come prestazioni e Sainz ha sempre ammesso che andava più forte di lui ma ha fatto qualche errore ma sia lui che Sainz hanno soppiantato la McLaren a fine anno quindi come piloti ci sono poi ricordiamo che appunto Leclerc ha vinto tutto quello che poteva vincere al primo tentativo eccetto appunto la Formula 1 in Formula 1 è arrivato con l'Alfa è andato a punti ogni singola gara al punto che dopo un anno l'hanno preso subito in Ferrari mentre Mick Schumacher se lo sogna di farsi prendere in Ferrari quindi con questo Sainz è dura con questo Sainz è dura Leclerc sta disegnando sta dimostrando davvero tanto Sainz pure e secondo me l'hanno già dimostrato l'anno scorso di essere due che con la macchina competitiva rendono e se la McLaren non fa una roba incredibile o la Red Bull anche secondo me io non ho nessun dubbio che sarà combattuta così fino alla fine non so cosa ne pensi tu no no l'unica pecca di Leclerc nota di colore poi vado nel merito di quello che hai detto è che Leclerc è monegasco e quindi ci dobbiamo sorbire l'inno nazionale di Monaco che fa cagare ok il circuito come il circuito l'inno di Monaco cioè allora io non sono un fan dell'inno italiano ma posso dire con certezza che quello di Monaco è pure peggio dell'inno italiano musicalmente parlando fa veramente schifo andatelo a vedere voi della chat per andare a letto e avrete il link di stanotte fare evil fable be like e dire che onestamente evil fable che poi è il normale fable perché sono sempre così però e dire che onestamente sono ben pochi gli inni che mi piacciono per davvero che molti mi fanno un po' schifo comunque no il concetto l'avevamo detto sempre prima Leclerc quest'anno ha la chance di giocarsi il titolo del mondo però c'ha un Verstappen che è una bella vega perché la Red Bull come dicevo prima ha una macchina ben strutturata già da quest'anno al netto dell'affidabilità però tralasciando i primi gli ultimi giri cioè i primi 55 giri su 57 la Red Bull insomma è sul pezzo come l'anno scorso parliamoci chiaro e con quella velocità di punta e qui voglio farti una domanda è questa cioè agenda la mia considerazione è che la Red Bull sia la favorita tecnica per vincere la gara perché è un circuito insieme il fatto che oltre al motore ha una aerodinamica che è stata già decantata da tutti gli altri team come spaziale sì sì cioè Jedda allora per chi non segue la Formula 1 è un circuito diversissimo dal Bahrain cioè parliamo del secondo circuito più veloce del campionato dopo Monza ok forse anche il secondo più stretto del campionato sì ha detto che non ci sono vie di fuga e le poche che ci sono le tagliano vabbè per lo gioco della FIA però effettivamente è un circuito dove la Red Bull può fare tanto bene cioè perché se Verstappen in rettilineo col DRS recupera 8 decine ad Ekerk insomma Jedda sono tutti i rettilinei e si cambiano veloce praticamente due tornanti e poi e poi vabbè adesso hanno modificato un po' la pista ma ha capito però ragioniamo un secondo chi di voi ha visto in diretta o YouTube eccetera la reaction in diretta proprio dal vivo di Alonso che si era ritirato nel Q precedente al giro veloce di Verstappen di Jedda dell'anno scorso io non so se vi ricordate la faccia di Alonso era sconvolto cioè proprio davanti alle telecamere lo stavano intervistando si è fermato a guardare il giro di Verstappen era a bocca aperta che non riusciva a capire come facesse Verstappen a fare delle traiettorie così era impressionante ha fatto il millimetro a ogni singolo muro è uno dei circuiti dove anche Verstappen poi sappiamo che è anche un personaggio mediatico gioca su YouTube Twitch cazzo e mazzo fa il coglione insieme a Lando Norris però è uno dei circuiti preferiti di Verstappen ed è mostruoso su quel circuito poi l'errore può capitare a tutti l'abbiamo visto l'anno scorso con il modegasco a Monaco che si è schiantato con il tumore in casa sua che è la cosa più improbabile a casa tua però nel pratico l'errore può capitare a tutti però il modegasco a casa sua ha una marcia in più degli altri Verstappen a Jedda l'anno scorso è stato impressionante ha fatto un giro veloce che ha fatto rizzare i peli a Hamilton cioè Hamilton era tranquillo ha detto la polce l'ho sono davanti di 4 decimi me ne sbatto il cazzo ha fatto lui il giro e ha recuperato 8 decimi cioè è stata una cosa disumana per cui metti insieme una macchina pazzesca al fatto che il pilota già vabbè io sostengo che Verstappen sia come Hamilton 1 che non guarda in faccia nessuno e quando deve dare farle sportellate le fa e fine per cui è un po' scorretto però al di là di quello è uno che ha un'abilità se dovessi disegnare un successore di Hamilton adesso in Formula 1 direi che a parte il fatto che ha vinto il mondiale ma in generale sicuramente parlerei di Verstappen perché ha un carattere che lui non molla mai è impressionante e questo gli permette di fare delle giocate pazzesche fuori dal comune talvolta scorrette però assolutamente fuori dal comune in una pista come Jedda paga paga tantissimo essere un pilota così vedo una Red Bull favorita dovessi dare un podio io ti direi Verstappen primo Leclerc secondo e terzo Perez perché secondo me il podio lo prende il messicano con l'affidabilità giusta poi bisogna vedere anche lì come vanno le scuderie che sono finite dopo la musica perché ripeto Mercedes non la do per morta bisogna vedere come risorgono le altre è abbastanza ancora un'incognita perché parliamo soprattutto della prima gara cioè stiamo parlando di sentenze giudizi ma una gara la vedo sì assolutamente la vedo la vedo un pocheriggia purtroppo mi spiace per la McLaren no perché è un circuito oggettivamente viaggi tra due muri perché ci sono i muri quindi l'aria non sai neanche cos'è non esiste l'aria l'aria non c'è viaggi in un circuito stretto quindi ci sono poche traiettorie alternative da fare se anche volessi giocare come stavolta a dire faccio traiettorie alternative stavolta so che le devo fare quindi setto la macchina per guidarsi in un modo diverso c'è poco da fare traiettorie alternative se non trovano una soluzione Jedda per loro è un incubo e poi sei sempre al massimo come hai detto tu il secondo più veloce del mondiale sei sempre al massimo per loro sarà un incubo no no mi aspetto che le McLaren finiscano come quest'anno cioè come in Bahrain cioè a livello di Aston Martin che per me è una delle più grosse delusioni della gara del Bahrain apro parentesi e la Williams ed illusione è che Stroll sia arrivato davanti a Hulkenberg vabbè ma Hulkenberg poveretto non corre da due anni o da un anno no no va bene però sai Stroll cioè è lì perché è il figlio del proprietario della casa vaffanculo cioè non non merita di stare lì ruba il posto a gente brava quindi quando arriva dietro al compagno di squadra sono solo che felice no no sì solo che sai Hulkenberg cioè ripeto l'hanno chiamato il giovedì cioè non puoi neanche pretendere che il povero Nicholas Hulkenberg faccia sfracelli a mio modo di vedere no no anzi il fatto che sia stato dietro di una posizione se non sbaglio o due al compagno no no ma è finito il diciassettesimo mi sembra Hulkenberg dimostra che insomma le prestazioni della macchina sono quelle che sono e che lui in realtà cioè si è anche adattato bene cioè se vuoi dirgli a Hulkenberg è stato bravo no 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 cioè può fare nel senso noi parliamo ma c'è ripeto il massimo di videogioco di gioco di Formula 1 che abbiamo toccato appunto è il videogioco cioè di guida di Formula 1 è il videogioco e andiamo anche abbastanza malaccio tra l'altro e andiamo malissimo esatto ma perché io vado meglio a GT ecco sto giocando a GT ecco lì gioco è difficile senza aiuti ecco Formula 1 a 75 con gli aiuti fatico ecco per dar l'idea quindi non sono laureato diciamo anche che il problema è che l'IA di Formula 1 è la stessa di GT cioè ti prende a sportellate cattiva incazzate tu ti rompi e loro no e quindi c'è poco da fare ma almeno a GT puoi andare sui cordoli e tirarli questo bravo non sbigni a casaccio finalmente ho fatto delle corse l'altro giorno mi fa mi fa molto paura questo 2022 che sta arrivando finché gioi a GT io mi tengo a GT no dai stavi dicendo sulle gare eh stavi dicendo sulle gare no che nel senso cioè noi parliamo cioè ma ripeto il massimo di Formula 1 che abbiamo mai visto è il videogioco ecco se parliamo da tifosi appassionati no però ti dicevo il podio tuo dell'Arabia Saudita giusto per dare le ultime conclusioni al mio podcast a freddo che siamo ormai a tre quarti d'ora come lo vedi l'Arabia Saudita vabbè come quello vabbè l'Arabia Subita dal sultanato dell'Arabia Saudita ecco diciamo ah TDO premia tanto la velocità quindi sicuramente saranno Red Bull e Ferrari cioè a meno che appunto qualcuno non tiri fuori il coniglio dal cilindro sicuramente sono Red Bull e Ferrari poi l'ordine preciso se Leclerc guida come stavolta può anche tenere dietro Verstappen forse la do più il primo posto su un circuito che punta così tanto alla massima velocità lo do più a Verstappen però ripeto prima gara non sappiamo le mappature usate le Red Bull potrebbero essere esplose proprio perché hanno usato mappature estreme e quindi quella non è la loro potenza e magari la Ferrari ne ha ancora da esprimere magari ha una gestione dei rapporti non tanto la mappatura ma dei rapporti diversa per cui sacrifichi un po' di accelerazione per avere più velocità può stare quindi secondo me è molto aperto però indubbiamente saranno loro due mi aspetto abbastanza male da tutti i motori Mercedes per i motivi che abbiamo appena detto non la vedo pulita per Hamilton Russell Latifi Albon e quegli altri spero che Russell vada davanti a Hamilton perché secondo me Russell è una mezza delusione della gara di ieri perché dopo tutte le prove libere davanti a Hamilton dopo tutti i resti davanti a Hamilton sbagli in qualificazione sbagli in gara sei indietro secondi rispetto a Hamilton che per l'amor di Dio è un fenomeno però se due indizi fanno una prova doveva essere davanti poi Hamilton si è inventato una partenza di Cristo ci ha messo del suo quel che vuoi bisogna dire che appunto Hamilton ha un'esperienza diversa ha un piede che sicuramente è sublime non puoi dirgli niente io sono un detrattore nel senso che sono sempre quello che dice che ha vinto tutto quello che ha vinto perché aveva una macchina che era talmente superiore che era da mettersi a piangere però non puoi togliere che sia comunque uno dei piloti migliori se quella macchina la davi alla Tifi entrava a punti ogni volta ma non vinceva al mondiale per cui comunque è un pilota con i controcoglioni Russell onestamente in Williams non ha dimostrato con la macchina di merda che aveva ma non ha dimostrato chissà che per cui ha avuto tanti alti ha avuto tanti bassi secondo me ha da imparare da Hamilton una cosa cioè la costanza Hamilton ha una costanza che è imbarazzante cioè se non gli succede qualcosa lui se deve andare male sfiora il podio se proprio deve andare male perché? perché non sbaglia niente è preciso fa sempre tutto giusto blocca le ruote una volta ogni morte di papa è una macchina quando è in pista al punto che l'abbiamo visto quando quando c'è stata la la safety car appunto all'ultimo giro del mondiale che lui stava passando dietro la safety car passa di fianco alla Tifi e era talmente concentrato che non si è reso conto di aver passato di essere passato di fianco la macchina di la Tifi si sente il team radio con Hamilton che fa ma perché c'è la safety car il team radio ci si è appena passato di fianco c'è la Tifi schiantato cioè è così concentrato è così una macchina quando galleggia che non si rende neanche conto di quello che ha a Torno è impressionante quello è in termini di concentrazione quello che deve arrivare a fare Russell fondamentalmente quello che deve imparare Russell che invece fa errori tipo io lo dico sempre quello di Imola dell'anno scorso con Bottas dove su pista bagnata tenti un sorpasso all'esterno con due ruote sull'erba è un errore da pirla cioè non provi una cosa così non ci provi assolutamente poi con uno come Bottas che non è uno scemo e aveva una macchina nettamente superiore aspetti una condizione più favorevole fondamentalmente quindi pecca un po' certe volte di superbia che a volte paga facendogli fare delle prestazioni sensazionali mentre altre volte fa delle cagate in mani deve diventare più più regolare lui più che altro perché le prestazioni come dici tu le ha cioè se due prove fanno la conferma come detto tu lui già due volte è stato davanti a Emito nell'anno scorso se non sbagliavano la strategia delle gomme vinceva pure la gara con la prima volta che metteva piede sulla V12 sì 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 per concludere sai che di solito io nei miei podcast do premio di driver del giorno delusione del giorno l'ho accennato nel podcast di ieri driver del giorno penso che siamo d'accordo sul driver del giorno Magnussen senza se senza ma per i motivi di qui sopra delusione del giorno io ti dico vabbè non ti dico la McLaren perché vabbè sparò sulla croce rossa ti dico a Ston Martin perché è il secondo anno che dovevano fare la macchina non dico tipo Mercedes B ma comunque riscattarsi dalla stagione di merda dell'anno scorso risultati Stroll dodicesimo Nicola Sulkenberg dietro le McLaren o comunque in zona McLaren ecco non benissimo a Ston Martin ha il problema della Ferrari che tutti gli anni se la tira abbiamo fatto la macchina fenomenale e poi Pantone fa schifo quest'anno è andata bene con la Ferrari niente da dire però per anni è stata questa la macchina quest'anno l'abbiamo testata in gradi del vento ragazzi diamo una pista a tutti Pantone quindicesimo e diciassettesimo disastro incredibile la tua delusione del giorno chi è? ma allora tu la delusione è data come auto si proprio come pilota in sé è come pilota ah beh è come pilota in sé boh non lo so cioè uno delle due Red Bull perché secondo io ti dico Perez come prima candidatura perché meritava il podio secondo me e l'affidabilità l'ha tenuto però non è colpa sua delusione non è colpa sua delusione ti dico Alonso perché ha preso paga da Ocon e di solito è il contrario quindi bravo me la giocherei tra Alonso che ha preso pagato con dopo essere partito davanti aveva fatto delle qualifiche pazzesche Mick Schumacher che come abbiamo detto dopo aver visto Magnussen ci si aspetta di più per forza per forza ti aspetti di più se quell'altro ha fatto il quinto la macchina c'è quindi ti aspetti di più e sinceramente anche se mi fa male dirlo Verstappen Verstappen perché non so se è colpa sua o se è colpa del muretto strategie dubbie cioè ha tentato quanti due o tre undercut non mi ricordo uno ha funzionato ma tre undercut uno ha funzionato e va bene gli altri due sono stati un disastro clamor cioè non ha zecato niente tu hai fatto tre stop fare uno stop spreca molto tempo non c'è un dubbio tre stop e sono tanti in una gara soprattutto una gara veloce come il Bahrain dove l'altro si becca al giro veloce in Bahrain cioè nei recuperi di tempo sono tutti i rettilinei è rischioso è stata una strategia molto rischiosa e direi che non ha neanche pagato e dal campione del mondo non mi aspettavo mi aspettavo solo l'ultimo undercut dal campione del mondo mettiamola così una giocata diversa una giocata diversa niente io direi che la mia parte podcast si conclude perché abbiamo fatto 50 passi minuti quindi perfetto direi facciamo un paio di annunci nel senso che il format io così lo replicherei quindi ci si vede in podcast probabilmente sarà il podcast del martedì o del lunedì sera adesso dipende quando finisco dipende da come siamo messi esatto nel senso magari lo facciamo lunedì poi da me sarà inregistrata il martedì a pranzo o il lunedì notte dipende quando finisco di montarlo ricordiamo che siamo come abbiamo detto due appassionati facciamo quattro chiacchiere in amicizia non abbiamo neanche una scaletta siamo saltati un po' di palo in frasca è proprio una chiacchierata da bar ma di un certo livello nel senso che però cercando di analizzare un pochino con quelli che sono i nostri mezzi e la nostra mancanza di dati tecnici di ogni genere no no ripetiamo ancora una volta noi giochiamo ai giochi di guida siamo appassionati conosciamo le piste i motori da anni ma non siamo giornalisti non facciamo questo di mestiere facciamo tutt'altro c'è proprio una roba molto alla buona ma comunque che può dare insomma allegria e insomma un bel contenuto è un format che vogliamo replicare è facile è facile fare come fanno tutti su internet a dire ah la tiff è arrivato ultimo è un coglione sfigato va bene è comunque il ventesimo al mondo se arriva ultimo è comunque la ventesima personalità al mondo in termini di velocità e se è arrivato in fondo vuol dire che è tutto in pista quella macchina per 70 giri datela a me in mano e non so neanche se arrivo in fondo a rettilineo scritto per cui quindi per quanto riguarda quello che diciamo noi è proprio parole da appassionati ma senza alcun valore esatto poi ripeto io ho il canale sportivo su youtube ma ripeto di mestiere faccio lo statale quindi non c'è nulla con il giornalismo sportivo faccio sport seguo lo sport ma essere competente è un altro discorso però è un format che ripeteremo già direi da gedda possiamo dirlo già adesso senza problemi penso che possiamo anche dire che probabilmente in qualche caso proporremo alternative come abbiamo detto prima per messaggio noi quando parlavamo per esempio a Monaco senza offesa c'è sempre molto poco da dire non succede niente cioè Monaco si parte dritti a parte qualcuno che si schianta ogni tanto è una pista morta non succede nulla il Gran Premio deve consentirlo probabilmente in quel caso in quel caso ci mettiamo a giocare noi due Monaco per darvi uno spettacolo diverso e fare qualcosa per vedere due stronzi che si schiantano alla Saint-Devote dieci volte bravo perché parlare di Monaco ci sarebbe molto poco da parlare o parliamo della storia di Monaco ci inventiamo qualcosa ci inventiamo qualcosa di nuovo perché sicuramente qualche evento andrà un po' saltato mettiamola così sono 22 Gran Premi insomma ci può anche stare che non faremo 22 analisi a freddo ecco l'annuncio che volevi fare tu invece? l'annuncio che volevo fare io allora anzitutto perdonami il collega aveva scritto ancora dice dicono che Red Bull si erano esplosi per il nuovo carburante non testato a dovere l'ho sentito anch'io anche se in realtà dicevano che Verstappen ha avuto problemi alla batteria in realtà alla componente della batteria ma scusami se ti si scassa la batteria la macchina dovrebbe andare lo stesso non hai il terzo ma la macchina dovrebbe andare ma infatti andava piano aveva problemi allo sterzo e problemi alla batteria dicono si è andato così anche allo sterzo non c'era niente che andava sì perché aveva il volante storto negli on board quando Science l'ha superato si vede che aveva il volante storto dicevano che ha sbinnato perché proprio la macchina ha avuto un problema a scaricare la potenza quindi lì era un problema di differenziale poi la macchina però si è anche spenta e quindi sostenevano l'ho sentito anch'io la cosa che tra l'altro la macchina avesse problemi forse non appunto al differenziale ma al pescaggio della benzina cioè se io non la pesco per un attimo il motore perde potenza poi ridà potenza la macchina scivola e voli fuori quindi e poi si è spenta quindi probabilmente avrà dei seri problemi di pescaggio ci può stare cosa che si è vista anche in passato tra l'altro ricordo un Akinen in una fase del Sommo potrebbe essere la sua prima vittoria lo riporta in campionato eccetera ha problemi di pescaggio di benzina si ferma e sti cazzi quindi ah giusto prima di concludere il Sommo aveva sentenziato e per una gara ci ha preso ricordiamo cosa ha detto il Sommo prima è vero è vero ha detto che la macchina era un portento il Sommo ha sentenziato che la macchina era una cosa fenomenale e voi sapete cosa significa quando il Sommo sentenzia aspettiamo le prossime venti gare a vedere come finire questo mondiale vedrete a Imola una maglietta mia di Febole del collega di un certo livello in tal senso seguiteci su Instagram su Facebook vedrete vedrete su Telegram adesso spammerò il link su Telegram lo spammo subito appunto si attiva Telegram il link così se volete qui pubblico le live quando le facciamo e pubblicherò anche quelle col buon Matthew esatto e l'annuncio perdone così poi ti faccio chiudere perché io qui sto continuando a chiacchiare e mi faccio trasportare vai vai quindi ho intenzione mi sposto come vedete qui dietro c'è un set nuovo di pacca griffato griffato Fanatec che non sta sponsorizzando questa diretta che non mi sta sponsorizzando sono io che li ho sponsorizzati alla grande dicevo c'è un kit griffato Fanatec qua dietro perché ultimamente ho preso la passione non solo di guardare chiacchierare con Toria ma anche di giocare appunto i giochi di racing con volante ho deciso di passare a un kit serio e di aprire un canale di racing dove cercherò con una certa regolarità di portare contenuti di ogni genere dal ripercorrere eventi storici che ne so ritentare gare storiche impersonando un personaggio specifico piuttosto che rivivere storie di scuderie per esempio l'Andrea Moda non so eh cose così per dire piuttosto che semplici gare campionati però divertirci e far quattro chiacchiere mentre si guida e magari appunto parlare delle gare anche in un contesto più giocoso più ludico quindi aprirò un canale il nome ancora non ce l'ho pubblicherò comunque tutto a tempo debito sui social quindi di nuovo seguite me e Matthew sui vari social e niente questo è l'annuncio se volete seguirmi anche là sarò molto contento di passare il tempo con voi esatto così poi anche nel prossimo podcast sponsorizzo anche il nuovo canale di Facebook niente il primo racing podcast a freddo si conclude qui quindi appuntamento a Jedda direi adesso vedremo se lunedì prossimo alle 21.45 che mi sembra un buon orario comunque o il martedì adesso poi vediamo anche i nostri impegni quindi finalmente posso fare la chiusura per poi metterlo direttamente su YouTube un cordiale saluto da Matthew Torgard e da Fable Pendragon buonanotte a tutti buonanotte ragazzi che mi sembra un buonanotte a tutti